Un'anima. Ogni paese deve avere un piano regolatore del suo paesaggio. Un piano dove siano previste zone inoperose, in cui non solo non si fabbricano casi, dove non si taglia neppure la legno. Un piccolo cuore salvatico per ogni paese. Piccoli paesi dovrebbero essere esentati dalla tassa sulla casa alle persone che abitano nel centro antico. Stare all'aria aperta almeno due ore al giorno, ascoltare gli anziani, lasciare che parlino della loro vita.